Dovevo fare un video di tutt'altra natura e lo faccio adesso, è solo che mi è caduto l'occhio su questo Astrophytum, è un ibrido di Asterias, credo un Asterias con qualche Capricano c'è dentro, così allora ho detto, aspetta che lo inquadri, bello perché era nato variegato, io so che adesso dirò una cosa che molti faranno, dirà questo è pazzo, era nato con molto giallo, cioè con una variegatura, adesso la sta perdendo, io sono contentissimo perché a me le piante variegate non piacciono, qua da questo lato se si riesce a inquadrare, di qua dietro c'è ancora abbastanza visibile la variegatura gialla, però crescendo la sta perdendo e questa cosa mi rende molto contento perché io odio le piante variegate, scusate, adesso mi risponderete in 200 dicendomi che invece sono bellissime, fa niente, piccola divagazione, adesso andiamo al succo del video, ok scusate la divagazione iniziale così mi andavo, ma è caduto l'occhio proprio prima di fare il video, allora ho detto, lo inquadro, odiatemi pure se non siete d'accordo con me e vi piacciono le piante variegate, a me non piacciono, non c'è niente da fare, allora il video ha oggetto, come vedete questo bestioncino, questa pianta mi è stata regalata due anni fa al mare, mentre quando ho comprato una chitarra, la storia è stata carina ma non ha senso raccontarla qua, comunque mi è stata regalata questa pianta e adesso è andata un po' in sofferenza da un mesetto, un mesetto e mezzo, allora l'ho svasata e la devo rinvasare per cercare di farla un po' ripartire, perché come vedete è molto secca, asciutta, ora tu dici, non l'hai annaffiata, no non è vero, l'ho annaffiata poco inizialmente, come ho sempre fatto, è cresciuta tantissimo perché quando me l'hanno andata era alta così, giuro, non più di così, in due anni ha fatto questi due pezzi fino ad arrivare là, questa qui era una talea, chi me l'ha regalata ha fatto una semplice talea e da questa talea è nato questo pezzetto, tant'è che quando me l'hanno regalato era così, aveva la punta tonda qua, poi è andato avanti a crescere. Cos'è questo? Questo è un Echinopsis pacanoi, lo trovate anche come Tricocereus pacanoi, semplicemente per il fatto che il genere Tricocereus esisteva ed esiste tuttora per molti autori, ma sarebbe stato soppresso e le piante, le specie che appartengono a questo genere sono state incluse nel più ampio genere Echinopsis, che è una pianta che probabilmente avete sul davanzale di casa. Ora, il genere Echinopsis comprende tantissime piante di facile coltivazione, questa è una un po' diversa dalle altre, non tanto per la coltivazione che è facile, ma come conformità perché è colonnare e via discorrendo, ma in effetti se si includono i Tricocereus le forme sono tante. Ora, se non capite bene quello che vi sto dicendo, cioè la differenza tra i generi, famiglie e specie, non è perché siete scemi, ci mancherebbe altro, è perché magari non avete letto o non sapete la differenza tra una succulenta, una cattacea, cos'è un genere, cos'è una specie, cos'è una famiglia. Allora, su questo, se vi va, io vi invito, diventerò magari un link qui sotto, vi invito a leggere un articolo che ho scritto sul mio sito, Il Fiore tra le spine, proprio su questo argomento. vi insegna quantomeno le basi per imparare, perché io stesso non sono mica un ricercatore, ci mancherebbe, quindi ho solo delle basi che mi sono creato leggendo dei libri. Potete fare altrettanto leggendo l'articolo che poi ho scritto io, dove spiego le differenze tra generi, famiglie e specie. Comunque, questo è un Echinopsis Pacanoi, detto anche, qua lo saprete, invece qua lo riconoscerete, il nome San Pedro, Cactus San Pedro. È un cactus famoso perché contiene mescalina, però in Italia questo è legale, non è come l'allofofora che è illegale. Questo si vede che il legislatore non lo sapeva, non lo so, francamente sono cose che non mi appassionano. Questo cactus è un cactus considerato allucinogeno dai nativi americani, utilizzato in certi sciamanici, e via discorrendo, ma in Italia è perfettamente legale. Ed è un Echinopsis Pacanoi, detto Cactus San Pedro. Allora, veniamo alla pianta in questione, cioè la pianta in servo. Io qui ho già preparato il vaso con un po' di argilla espansa sul fondo. Su chi ce l'ha ammorto con l'argilla espansa, beh, problema suo. Io ho scritto proprio in questi giorni, no, qualche giorno fa ho pubblicato un articolo dove entro in dettaglio di pro e contro dell'argilla espansa. Qui l'ho usata, come vedete, guardate, per fare un fondo leggerissimo. Praticamente per ostruire, ostruire, non ostruire, per coprire i fori di drenaggio e far sì che quando metterò il terriccio non mi esca tutto, tutto qua, cioè, basta. Non serve altro. Allora, io ho sbagliato questa pianta già da una settimana. Ce l'avevo, la tengo a casa, infatti, questa non la tenevo in sera, ce l'avevo a casa sul balcone. Io ho visto che lì ci sono tutti a posto, ho detto, oh, non so, perché questa pianta non riparte. cercavo le forbici che sono qua. La parte, ovviamente, questa qui è la parte interata, quindi è normale che sia un po' ingiallita, però è soda, così come tutto il resto, solo che sia un po', tutto un po' asciugato da quando, da qualche mese. Dovevo pulire un po' meglio. Il terriccio era corretto, aveva fatto belle radici, tant'è che è cresciuto, è diventato il triplo nel giro di due anni. Allora, io ho accorso un po' le radici, quindi non so, si vede che le radici che avevano colonizzato completamente il vaso non avevano più modo di espandersi e forse magari la pianta si è fermata e nonostante io abbia provato a innaffiare anche in maniera massiccia un paio di volte, ho visto che non è ripartita, non si è ripresa. Allora, vabbè, a quel punto lì ho detto, lo svesamola, perché mi aspettavo di trovare le radici malate o comunque di vedere un problema alle radici, visto che il fusto non presenta niente, non ci sono parassiti, macchie, marciumi, non c'è niente. Stessa cosa sulle radici, le radici sono perfette, non hanno nessun po', come potete vedere, non ci sono parassiti, non ci sono marciumi, sono pochissime quelle secche, perché vedete che le tocche non vengono via, se non in minima parte, anche perché adesso è una settimana che è a casa, ripeto. Io una accorciata gliela do, perché dobbiamo farlo ripartire. Ok, quindi per far ripartire le piante, anche se questo purtroppo non è il mese ideale, settembre è un bel mese per i cactus, ma per far ripartire una pianta è sicuramente meglio la primavera. A me basta che questa pianta riparto almeno un minimo, si, non so, si torni un po', come dire, alla vita, e poi dopo in primavera riprende la crescita, non c'è problema, l'importante è che mi superi bene l'inverno, tutto qua. Allora, non sarà un'operazione semplicissima, ma semplicemente per il fatto che questa pianta ovviamente è verticale, quindi da sola non ci sta in piedi, dovrei farmi aiutare, però come ho detto un'altra cosa, l'aiutante ce l'ho, ma sta tenendo il telefonino, quindi devo arrangiarmi da solo. Ah, come vedete, ho preparato un tutore che vado a piantare nel terreno, diciamo, andrà forse fin qua, quindi come vedete è abbastanza giusto come altezza, perché a me non mi serve che vada anche per il futuro, intanto mi serve adesso, quindi andrò a mettere il tutore e cercherò di fissarlo, se riesco, con uno di questi elastici, perché non voglio fissarlo con delle fascette o qualcosa di fisso, perché se poi la pianta si rigonfia ovviamente trova l'ostacolo. Se trova semplicemente l'elastico, vabbè, l'elastico si allunga a sua proprietà. Allora, andiamo a mettere un po' di terriccio, che ho preparato. Questo è un terriccio, diciamo, che ho fatto io per cactus, quindi con pomice, la pillo, poca perlite, poca torbe, poco humus di lombrico. E non so se vedrete, magari c'è nel video precedente a questo oppure sarà il prossimo video, perché sto facendo questi due video insieme, quindi il video su come ha fatto questo terriccio o andate indietro e ve lo trovate già pubblicato, oppure aspettate una settimana da quando vedete questo e verrà pubblicato. Oppure se guardate tutto tra un anno o tra diecimila anni, avrete tutto insieme, come le serie, no? Le guardate, sono 112 puntate, voi ve le guardate quando la serie è uscita tutta e avete risolto il problema. Vabbè, adesso sto scherzando. Allora, mettiamolo con la parte un po' più sottile. Ecco, se l'aiutante ce la fa, mi dà un grandissimo aiuto in questo senso, perché io adesso devo cercare di calibrare, qui ovviamente la ripresa sarà, ci arriverà fino a un certo punto. Allora, questo qui dobbiamo fare in modo che vada, ecco, perfetto. Qui, lo mettiamo, se io questa altezza diciamo che va bene, quindi aggiungo ancora un pochino di terriccio. Ok, dovremmo esserci. Cerco di infilare il tutore in uno spazio tra le radici e poi non senza fatica perché sono con una mano sola e la parte girata, eccolo che è, cerco di riempire stando un po' sotto al bordo del vaso, ecco così. Anche perché poi contavo di metterci uno strato di quarsito o qualcosa sopra alla fine per stabilizzare ulteriormente il tutto. Ok, ci siamo quasi. Vediamo come, sì, perché non voglio andare ovviamente tengo il segno che c'era prima con la parte un po' ingiallita rimane lì, insomma, non vado più sotto di così. Ok, allora, secondo me ci siamo. Allora, se l'aiutante molla ci faccio io adesso perché solita procedura di battere un po' per togliere bolle d'aria, spazi vuoti e altra cosa utile battere bene il plan quel verso che avete sentito è l'aiutante vabbè, ce la facciamo, dai. Allora, io più sopra di così non vado perché era il livello dove era prima quindi va bene qui ci sarà uno vado con uno stratterello di quarsito basta, non di più. Adesso vediamo se questa cosa dell'elastico ha un senso o se devo provvedere diversamente perché si è andato molto occhio cioè si può fare così no, tienilo un attimo grazie un attimo la pianta lo raddoppio perché secondo me è anche fin troppo no, ho paura proviamo vediamo così se tiene poi ne metto due ok si 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 va benissimo è importante che me lo tenga lo tenga su in questa fase perché non ha ovviamente ancora non ha ancora radicato cioè nel senso ha le radici ma non le ha ancora agganciate bene espanse il nuovo terriccio boh allora quindi la pianta diciamo che non è salda ma resta sua ferma allora speriamo che con il nuovo terriccio e con un taglio di alle radici possa ripartire perché mi stavo un po' preoccupando francamente infatti vedete come è stretta non dovrebbe essere così stare dovrebbe essere un po' più anzi era un bel po' più gonfia tonda soprattutto qua alla base dove c'è dove era nata la parte nuova diciamo qui si è molto schiacciato però come vedete le radici erano come avete visto le radici erano perfette qualcuno sa dirmi il perché secondo me perché ha colonizzato tutto il vaso e poi non c'è da un punto si è fermata lì strano però perché il rischio era buono le radici c'erano la pianta è sana non ha una sola non solo come dire macchiolina di marciumbo che vabbè stop un secondo prendo la quarzite e arrivo allora vabbè adesso l'ho aperta proprio adesso questa è normale quarzite che trovate nei negozi o per acquari o nei negozi per articoli per animali mi raccomando se cercate se chiedete questi materiali quarzite o anche ghiaietto brecciolino che non sia trattato con vernici o con qualsiasi altra cosa è naturale quindi questa è una quarzite normalissima bianca questa è di spezzatura già medio grossa avrei preferito anche più grossa per questa pianta ma non ce l'ho cioè nel senso adesso a disposizione ho questa o se no ce l'ho più piccola quindi mettiamo questa perché mi serve solo per giusto per dare un minimo di stabilità in più ai alla pianta allora ancora facciamo così ancora un po' io di palettate poi la la spargo a mano ok direi di qua vediamo un po' come ecco sì basta perché anche qua un po' come per argilla espansa strato molto superficiale basta non c'è bisogno di fare mezzo metro sotto sopra quindi passerà neanche un centimetro un centimetro di quarzite che tiene in ordine il tutto perché quando annaffio non andrà a uscire il terriccio non si muoverà da tutte le parti ovvero è che c'è molto bordo quindi ok e in più tiene un filino più ferma la pianta anche se quello che fa il lavoro in questo momento è il tutore chiaramente non è stabile io spero che riparta in modo che si stabilizza si rigonfia e torna a crescere perché se ha questi ritmi io penso che se avanti così e dipende a crescere come era prima tra dieci anni no tra dieci anni tra due anni questa pianta qua è alta tre metri adesso in natura non mi ricordo il pacanoio quanto può arrivare ma secondo me a tre quattro metri ci arriva tranquillo comunque vi metto un po' di link come al solito qui sotto vi invito ad andare a visitare il sito che è pienissimo di notizie perché questi video servono solo per far conoscere un po' il sito per farvi vedere un po' quello che faccio ma poi nel dettaglio trovate tutto sul sito quindi vi metto il link come al solito qui sotto e vedremo come si comporta questo Echinopsis pacanoi grazie a tutti